Ciao e grazie. L'Italia perde la finalissima Under-19 in Finlandia contro il Portogallo per 4-3 ma dà un segnale importante al movimento calcistico italiano. Sotto 2-0, pareggio di Keane, 75-76 minuto, il gol del Colored italiano. Si va a supplementare, 3-2 per il Portogallo, pareggia l'Italia, minuto 108, 3-3, 108-35, 4-3 per il Portogallo, partita finita. Ma la cosa importante è il messaggio che i giocatori hanno dato al movimento calcistico italiano. In Italia ci sono ancora giocatori forti, ci sono giocatori che meritano fiducia, meritano spazio anche in Serie A. E quindi un messaggio va soprattutto dato ai presidenti e ai direttori sportivi. Basta andare a comprare giocatori all'estero, giocatori che non valgono niente e a cui i nostri italiani non hanno nulla da invidiare. Diamo fiducia ai ragazzi italiani perché la scuola italiana, l'insegnamento della tecnica italiana è sempre stato valido e continuerà ad esserlo. Bisogna soltanto avere la fiducia e la sfrontatezza forse di rilanciare questi ragazzi. Magari faranno fatica, pagheranno lo scotto della categoria ma chi ha i mezzi verrà fuori. E questi ragazzi hanno dimostrato di avere dei mezzi sia fisici, tecnici e atletici importanti. Quindi ritorniamo, ritorniamo a dare fiducia alla scuola italiana e basta con tutti questi stranieri nel calcio italiano. Ciao e grazie!